Nelle chiese Madre di Giarra e Sant'Isidore Agricola avrà luogo domani, sabato 15 luglio alle ore 20, un concerto dedicato al popolo ucraino e a tutte le popolazioni in guerra, Musica per la Pace. Quest'evento organizzato dall'Anolf Cisle Catania e dall'Associazione Culturale e Musicale Ucraina Arte, in collaborazione con la Comunità Parocchiale del Duomo Gerrese, ha un forte valore simbolico, in grado di lanciare messaggi dal forte impatto e dal significato profondo, un modo per affermare la pace e dire no alla guerra. Sappiamo bene quanta sofferenza c'è nel popolo ucraino per gli eventi bellici che ogni giorno si riversano nelle nostre case attraverso i mass media, la televisione soprattutto. Ecco, vogliamo unirci a questi artisti per invocare il dono della pace che non divide i popoli ma attraverso la musica li possa unire. L'evento si svolgerà nel nostro Duomo di Giare, il ministro Duomo di Giare, sabato a 15 luglio alle ore 20 e vedrà protagonista soprattutto i musicisti Victor Recano al violoncello e Igor Seienko alla Fisermonica. Spero che la presenza di tante persone, un forte numero di persone, possa testimoniare ancora una volta il desiderio non di aumentare le armi ma attraverso le note di musica generare un concetto di fraternità fra i popoli.